Ciao, e bentornato su Click Patente. Il canale dedicato a chi dovrà sostenere l'esame di teoria, o togliersi qualche dubbio sul mondo delle patenti, e delle regolamentazioni stradali. Prima di cominciare, ti ricordo che iscrivendoti al canale, e facendo click sulla campanellina potrai rimanere sempre aggiornato sui prossimi video. Oggi vediamo come comportarsi in caso di incidente. Per prima cosa, devi spegnere il motore per evitare possibili incendie. In caso di incendio, utilizza un estintore se presente. In caso contrario, puoi usare una coperta bagnata, terra, o sabbia. Se sei coinvolto in un incidente in cui qualcuno si è ferito, è tuo obbligo fermarti a soccorrerlo, questo potrebbe significare salvargli la vita. Quando soccorri un ferito devi sempre ricordare di proteggere te stesso e agire secondo le tue capacità, senza prendere iniziative che riguardano i medici. Per poter assistere al meglio un ferito della strada in attesa che arrivi l'ambulanza, è necessario riconoscere i suoi sintomi. Questi possono essere, lo stato di incoscienza e di shock, l'emorragia, le fratture, un corpo estraneo in un occhio, e le ustioni. Lo stato di incoscienza si manifesta quando la vittima è confusa e poco vigile. In questo caso, assicurati che respiri mettendo una mano sulla parte bassa dell'addome. Successivamente dovresti liberare naso e bocca. Una persona in stato di incoscienza va messa in posizione sdraiata su un lato, ma solo se sei certo che non abbia fratture alla colonna vertebrale. Occorre infine attendere l'arrivo dei soccorsi controllando spesso le sue condizioni. Lo stato di shock si manifesta con pelle pallida e fredda, sudore freddo alla fronte, brividi, e frequenti battiti del cuore. Lo stato di shock può essere causato dal dolore, dall'emozione, dalla perdita di sangue, o da un trauma. Il ferito in stato di shock potrebbe dire frasi e parole senza senso. La persona in stato di shock va distesa a terra con le gambe sollevate, e va coperta come meglio possibile. Nel caso in cui la vittima abbia un'emorragia, occorre invitarla a sedersi o sdraiarsi. Usando acqua pulita, cerca di pulire la ferita e tamponarla con garze sterili o comunque pulite. Non togliere mai eventuali corpi estranei dalle ferite. Nel caso in cui si verifichino fratture agli arti, non muovere la zona interessata. Immobilizza l'arto interessato. Effettua le misure anti-shock che abbiamo visto prima se necessario. Se dovessi notare delle ferite, tamponale con materiale pulito. Nel caso di traumi alla gabbia toracica, il ferito va messo in posizione semiseduta, per facilitargli la respirazione. Se dovesse avere un corpo estraneo in un occhio, consigliagli di non toccarlo. Successivamente vendalo, cercando di non toccare la zona interessata. Infine, se dovesse avere delle ustioni sul corpo, cerca di soffocare le fiamme con una coperta. Utilizza acqua fredda per attenuare il dolore. Copri le ustioni con materiale pulito e possibilmente sterile. Non rimuovere mai i vestiti se dovessero essere attaccati alla pelle. Siamo giunti alla fine di questo capitolo. Mi auguro che la spiegazione ti sia stata utile. Ora, prova a fare dei quiz su questo argomento, e fammi sapere com'è andata, scrivendo nei commenti. Se il video ti è piaciuto, lascia un like. Ti ricordo di iscriverti al canale e di attivare la campanellina, questo ti consentirà di essere sempre aggiornato sulle prossime lezioni. Grazie, e a presto.